Il Barcellona si aggiudica la Liga, battuto 3-0 il Granada. Jingle Spot, agenzia del Mago Alberto, in via Candia 141b, fantastico bonus di benvenuto sull'apertura del vostro conto online. A Madrid confidavano in un miracolo, ma il miracolo non si è verificato, nonostante Cristiano Ronaldo ci avesse messo molto del suo, grazie alla doppietta con cui aveva steso il Deportivo La Corugna al Reasor. Ma Granada, la formazione locale, soccombeva per 3-0 sotto i colpi del Barcellona di Luis Enrique, trascinato dallo stupendo Luis Suárez, autore di 3-Gol. Con questa tripletta, il Luruguagio diventa il nuovo PCC della Liga e si aggiudicherà la Scarpa d'Oro! Su pronosticonline.com, tutti i venerdì in esclusiva i pronostici del Mago Alberto, inoltre help Serie A, help Premier League, help Liga, help Bundesliga, tutte le curiosità, le statistiche, i precedenti e i consigli dei nostri esperti, partita per partita, per passare alla cassa. Su pronosticonline.com trovate anche i consigli per il fantacalcio di Emiliano Donati. pronosticonline.com vi ricorda che scommettere è vietato ai minori di 18 anni. Scommettete sempre responsabilmente!